Come state ragazzi? Ben ritrovati qui su Milanello, la casa del Milano e dei milanisti su YouTube. Vi invito a iscrivervi qui se non avete ancora fatto e a lasciare un like qui sotto. Mi raccomando, ci avviciniamo alla sfida molto importante col Verona. E allora andiamo subito. Intanto una notizia che arriva dall'Inghilterra perché Milan e Liverpool, manca l'ufficialità ma dovrebbe essere proprio così, a dicembre nel corso del Mondiale faranno un amichevole a Dubai. Ovviamente di mezzo c'è il cercare di raggranellare qualche soldino e di raggiungere anche mercati diversi rispetto a quello italiano. Abbiamo detto di ieri una notizia di un scambio di merchandising tra New York, Yankees e la C-Milan appunto, con il Milan che venderà i propri prodotti negli store americani e gli Yankees negli store rossoneri. Vediamo appunto poi, quando ci sarà l'ufficialità, gara che comunque verrà fatta tra quelli che resteranno qui. Non tanti, insomma, dipende. Insomma, il Milan ne ha diversi che restano qui, ci sono anche tanti italiani, lo sapete. Resterà qui anche Ben Nasser, vediamo poi se viene convocato Giroud oppure no, lo stesso discorso per Salemakers. De Ketelar dovrebbe andare, Origi anche, insomma, ci sono comunque tanti giocatori che sono qui. Leao va, Teornades va, lo sappiamo, Meignan va. Andiamo subito, insomma, su un po' di notizie e su un possibile ritorno al Milan, che a me piacerebbe enormemente. Ne parlavo con qualcuno, non ricordo chi, forse anche qualcuno di voi mi ha fatto il nome e ha detto magari. Io ci spero tanto, ma arriviamo, andiamo con ordine. Innanzitutto, croce, nel senso che purtroppo hanno lavorato tutti gli infortunati in maniera individuale. Quindi, essendo oggi l'ultimo vero allenamento, domani c'è la rifinitura, non credo proprio che ci saranno recuperi. È vero che poi al portiere può bastare la rifinitura, mi riferisco a Meignan, però ecco, devo dire che alla fine, a questo punto, dunque, non si vogliono prendere rischi. E a un certo punto di vista è anche giusto così, anche perché è trattato a Rosano in settimana, secondo me con il Chelsea è fatto bene. È sembrato più convinto e convincente, di conseguenza. Quindi Meignan recupero, rientro, Monza. Per quanto riguarda poi il Kier, anche lui rientro in panchina Monza, con l'obiettivo di fare magari 15-20 minuti e giocare titolare contro la Dinamo Zagabria. A Zagabria, a clima incandescente, l'ha detto anche Arrigo Sacchiocci, dove, ricordiamo, ci sarà Meignan che rientrerà, uscirà di nuovo dalla lista Mirante, scusate, è stata Rusano, ma non ci sarà Tomori che è stato squalificato. Su Tomori poi voglio che ci tengo, vediate il video di questa mattina su una vicenda extracampo molto brutta, che ha ricordato il nostro difensore e che mi fa un po' arrabbiare. Poi potete andare a vederlo. No, quindi, Kier, no ad ecchettelare, questo si sapeva, anche per l'obiettivo di rientrare a livello di disponibilità in gruppo in settimana per puntare appunto una convocazione nella gara del sabato 22, se non sbaglio, sì, alle ore 18, contro il Monza. Ebbene, ci può essere però una sorpresa, perché c'è la possibilità di impiegare dall'inizio Rebic. Rebic che è salito di condizione, è salito anche di fiducia, è entrato bene anche con il Chelsea, era entrato bene con la Juventus. Giroud, ragazzi, li sta giocando tutte. È un giocatore che, insomma, va anche un po' gestito. Le sue performance, se vogliamo, nelle ultime partite in cui è un po' più stanco sono anche un po' calate, quindi avrebbe bisogno di un turno di riposo. Ci potrebbe essere appunto la sorpresa a Rebic, più di Origi, perché Rebic è più avanti in livello di condizione, Origi che probabilmente subentrerà, ha bisogno di mettere ancora minuti nelle gambe e quindi partirà dalla panchina. Attenzione perché c'è appunto un ballottaggio tra Rebic e Giroud. Rebic che tra l'altro è un ex del Verona. Io personalmente, ecco, probabilmente mi giocherei la carta Rebic che in questo momento potrebbe avere un po' più di freschezza rispetto a Olivier, a cui vogliamo tutti un gran bene, io in modo particolare, che però appunto deve magari rifiatare un po'. È un po' riserva giocato anche con la Nazionale, davvero non ha mai riposato. Per il resto vediamo appunto, credo che riproporrà il mister Gabbia dietro, con una sulla destra Calulu. Altrimenti Dest che è entrato comunque ha fatto bene, secondo me a parte un piccolo episodio nella gara contro il Chelsea. Ragazzi, devo abbassare il gas. Pazientate un secondino, un secondino. Sennò qui succede il patatrack. Sto facendo le carote per stasera. Mamma mia. Rischio di farle bruciare. Via. Ecco, sono rimaste attaccate. Ecco qua. Arrivo, ragazzi. Mi raccomando, pazientate un secondo. E sono da voi, eh. Sennò qua mi rimangono attaccate alla fine. Vi faccio vedere. Andrea Longoni Chef, guardate il fumo. Arrivo. E poi vediamo appunto per il resto la formazione. Vi dicevo però di un archivato appunto questa sorpresa Rebic. Io sono per Rebic perché Giroux secondo me deve riposare. È bello della diretta, dai ragazzi. Siete entrati in casa mia, io entro in casa vostra, quindi è giusto così. Poi chissà cosa fate, come siete vestiti, che cosa state facendo mentre guardate i miei video. Non lo voglio sapere. Qualcuno si fa anche la doccia mentre vede i video. Ci sta anche quello. Ma io non guardo nulla. Detto questo, ragazzi, c'è la possibilità, diciamo più che possibilità, c'è un interesse del Milan, che si guarda ovviamente attorno perché il mercato non finisce mai, ed è giusto tenersi aggiornati su tutti, soprattutto sui ruoli dove sei un po' più scoperto. C'è un interesse del Milan che sta osservando con attenzione la crescita, i progressi di un giocatore che al Milan c'è stato. Ha 23 anni, vediamo chi ci arriva per primo. È nato il 18 marzo 99, così non credo che vi dica molto. È alto 1,83, è portoghese. E va a scadenza giugno. Gioca nello United, è Diogo Dalot. Diogo Dalot che, quando era partito, a me non convinceva molto. Poi, invece, è cresciuto tanto e giocava bene a destra e anche a sinistra. Mi è dispiaciuto molto quando purtroppo se ne è andato via. Milan che, se vogliamo, Dest, ovviamente io spero possa fare altrettanto bene. Ricordiamo che qui, comunque, in prestito, c'è Ballot-Touré, sul quale Milan, comunque, ha sempre fatto dei ragionamenti. Ecco, Dalot potrebbe essere uno molto valido e sulla destra e sulla sinistra. Detto che, comunque, vorrei che Dest facesse bene. Lui ha questa situazione contrattuale particolare perché non sta rinnovando il contratto con lo United e quindi a giugno si libera a parametro zero. Quest'anno ha fatto in Premier 8 partite e in Europa League 4 partite in totale 2 assist. L'anno scorso 24 partite in Premier League. Ricordiamo al Milan in 21 partite non intere. In totale aveva fatto 11 partite intere, un gol e un assist. nazionale portoghese che, insomma, inizia ad avere anche esperienza con il Portogallo 6 partite e 2 gol ed era stato poi molto cresciuto ed inserito nel piolismo. Vediamo cosa succede. Un giocatore che piace, però, anche ad altri club, tipo la Roma. Mourinho lo aveva voluto fortemente anni fa allo United e lo vorrebbe alla Roma. Lo sta seguendo anche la Juventus, ha anche degli abboccametti di altri club in Europa, però ecco lui al Milan ci tornerebbe volentieri e il Milan lo riporterebbe volentieri. Bisogna capire in questo caso la commissione e l'ingaggio. Detto che c'è il decreto crescita, perché lui comunque è fuori è fuori da un paio d'anni e la gente, ragazzi, è se non sbaglio è ancora Mendes fatemi verificare questa cosa fatemi verificare questa cosa qui no, sai che forse non è lui? forse non è lui no, stranamente non è lui ma è la Pro XI Procuratore Pro XI dicevo, magari si può sfruttare il discorso nel rinnovo Leao dei quali più tardi avremo un aggiornamento importante, ragazzi ma invece, appunto, no la Pro XI ha di tanti portoghesi ma non è, appunto, la scuderia di Rafa Leao e di Mendes, appunto, soprattutto questa, dunque, la situazione, ragazzi a me piacerebbe tanto è un parametro zero laddove c'è sempre la commissione però credo non esorbitante per quanto mi riguarda lì potrebbe giocare benissimo come vice Teo e anche sulla destra vediamo cosa fa D'Este scusate, che però dovrebbe essere riscattato e rischerebbe comunque di avere costi superiori rispetto a Dalot sul quale c'è anche il Milan lo seguono diversi club siamo a livello di Bagarre vediamo se poi alla fine rinnovo pure no quello United dal momento non sta rinnovando e a me piacerebbe davvero tanto, tanto, tanto e quando ho parlato di lui recentemente era proprio per dire che all'inizio mi sembrava insipido poi secondo me è uscito molto bene tra l'altro va segnato proprio col Verona con cui giochiamo domenica chissà che non possa portare bene e su D'Este stessa cosa inizia un po' insipido però poi dopo qualche settimana mi aspetto che possa crescere anche lui detemi che cosa ne pensate ragazzi Rebic oppure Giroud e poi Sudalot per me sarebbe un grande enorme sì iscrivetevi qui se lo avete ancora fatto lasciate un bel like vi rimando al video di oggi su Tomori questa vicenda molto triste un abbraccio